Carroba e Mangano, due comunità piccole ma molto attive, con una bella e intensa vita, guidate dal parroco. La visita pastorale arriva anche qui, dove sto trovando una magnifica accoglienza festosa, gioiosa, con rappresentanti di tutte le età, dai piccoli ragazzi alle persone più adulte, più anziane, alle famiglie. Dunque è una bella occasione per riscoprirci tutti battezzati, cioè figli di Dio, liberati dalla luce di Cristo e soprattutto in quanto salvati evangelizzatori, cioè portiamo il Vangelo, portiamo lo sguardo di Gesù a tutte le persone di questo territorio che stanno attorno a noi. Questa comunità è il soggetto che evangelizza e chi deve farlo? Può farlo soltanto se riesce ad essere fedele e unita a Cristo nella Chiesa, nella comunione di tutti quanti. Con fiducia e con gioia vengo a queste persone, mi sento profondamente accolto da loro e voglio veramente dare a loro ogni benedizione perché lo Spirito Santo continua a guidarli e a far sì che essi seguano i suggerimenti dello Spirito nel loro cuore. Tanti tanti auguri alle due comunità. Abbiamo chiesto al Vescovo in questi giorni di camminare con noi, di condividere la nostra vita e di farsi partecipe di quelle che sono le nostre realtà, quindi non solo nelle chiese parrocchiali dove oggi e poi martedì verranno tutti i fedeli, gli operatori pastorali in modo particolare, ma anche dei luoghi di vita, dalle scuole alle aziende ad altri luoghi molto importanti e significativi come l'Istituto Giovanni XXIII dei padri camigliani che ammangano, un luogo dove si accolgono tanti nostri fratelli e sorelle diversamente abili, dove vengono accompagnati giorno per giorno nella loro formazione e nella loro crescita. Ringraziamo il Vescovo perché questa esperienza di visita pastorale è stata molto attesa, molto richiesta. L'abbiamo richiesta a gran voce proprio all'ultima riunione del Quattro Vicariato e quando conseguentemente a quelle che erano le possibilità di raggruppare parrocchia eccetera, ognuno di noi ha espresso la propria idea su quanto sia importante mantenere l'individualità di una parrocchia, ma altrettanto importante camminare insieme agli altri e Sua Eccellenza ha accolto questo nostro invito, l'invito che coralmente gli è stato rivolto da tutti e quindi oggi per noi è una giornata felice. Oggi tra l'altro credo sia la prima esperienza di visita pastorale interparrocchiale perché contemporaneamente la comunità di Mangano e quella di Carruba accolgono favorevolmente questa visita. La nostra interparrocchialità ci porta già a camminare insieme da prima che si iniziasse il cammino sinodale. Con l'esperienza del cammino sinodale abbiamo rafforzato il nostro camminare insieme e conseguentemente insieme abbiamo preparato l'incontro che ci vedrà coinvolti in questi due o tre giorni. Di certo il cammino sinodale è stata un'occasione per poter cercare di centrare alcuni argomenti e lavorare insieme. Abbiamo noi approfittato degli incontri sinodali che si dovevano fare e contestualmente agli incontri sinodali abbiamo svolto anche il questionario che ci veniva rivolto a proposito appunto della visita pastorale. La visita pastorale rappresenta per noi un momento di verifica ma anche di rilancio della missione della nostra parrocchia. È il momento in cui riconosciamo i nostri punti di forza però ammettiamo anche i nostri punti di debolezza e quindi cerchiamo di lavorare per migliorare proprio quelli. Quindi la visita del nostro vescovo è sì un momento di gioia ma anche un momento di fiducia nel continuare ad evangelizzare la nostra chiesa quindi andare anche nei posti più lontani dove il Vangelo non è ancora presente. Questo è l'obiettivo principale per noi.